Oltre 1.000 casi al giorno di positivi alla variante Omicron nel Terramano. La quarta ondata Covid potrebbe far impennare fino a 2.000 casi giornalieri previsti per la prossima settimana. Numeri preoccupanti, anche se i ricoverati sono solo 142. L'Asla di Terramo ha stimato siano 20.000 i contagiati dall'inizio dell'anno e decide di accelerare sulla vaccinazione, allargando la platea anche alle donne in gravidanza e allattamento. Si parte da venerdì 21 gennaio al Lab del Parco della Scienza a Terramo, dalle 15 alle 19, dove si svolgerà un pomeriggio di vaccinazioni dedicato alle donne incinte. L'iniziativa, sostenuta dalla Regione Abruzzo, sarà replicata all'ospedale Mazzini, domenica 23 gennaio, dalle 9 alle 13. La vaccinazione sarà assicurata a tutte, anche a chi non è riuscita a prenotarsi. L'Istituto Superiore di Sanità ricorda che, sebbene in molti casi l'attuale variante Omicron sia asintomatica o si manifesti con lievi sintomi, può sempre creare complicanze anche gravi per le future madri, in particolar modo se presentano fattori di rischio come l'età materna avanzata o patologie croniche persistenti alla gravidanza. La vaccinazione è raccomandata prima del parto e anche durante il periodo dell'allattamento, senza necessità di interromperlo. Si tratta di un'iniziativa importantissima per estendere l'immunizzazione anche a questa fascia della popolazione, commenta il direttore generale dell'Asra di Teramo Maurizio Di Giosia. Le donne che aderiranno alla vaccinazione potranno ricevere chiarimenti molto dettagliati da parte del personale sanitario, in modo da fare una scelta serena e informata.